La prima nota da sottolineare a proposito della Locandiera B&B di Edoardo Erba, andata in scena al Teatro Garibaldi di Biceglie, sold out per l'occasione, è la straordinaria capacità scenica, oratoria, interpretativa, dell'attrice Laura Morante nei panni di Miranda, fascinosa donna curatrice di una struttura ricettiva nella quale entreranno clienti di tutti i tipi, arrivisti, profittatori, spietati. Un trionfo di avidità e opportunismo, quello rappresentato nella libera interpretazione del testo di Carlo Goldoni, è rapportabile ai giorni nostri. Magistrale l'interpretazione degli altri attori, Giulia Andò, Bruno Armando, Eugenia Costantini, Vincenzo Ferrera, Danilo Nigrelli e Roberto Salemi. La favella rapida e ingannevole e il fascino astuto e calcolatore della protagonista Miranda, anzi Mira, porteranno a fughe epiloghi macabri e a pagamento delle personali ambizioni. Un'atmosfera tra Agatha Christie e la commedia all'italiana, quella che si respira in entrambi gli atti dello spettacolo, con una Laura Morante che sfoderà tutte le doti di un'attrice eclettica e completa. Pedro, 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 figati di me! Me l'ho buttata in pista e avevo cominciato a dimegarmi, ma non è che so ballare, così per sfocarlo la legge senza sapere un passo.